Benvenuti nella nostra rubrica. Questa settimana descriviamo verbalmente un'interessante infografica riguardante il commercio di caffè equo e solidale. Chiudete gli occhi per una migliore comprensione dei contenuti Sfondo beige vignettato ai bordi Una tizia con lo stecco nei capelli parla al tavolino con un'asiatica Zoom scritte sfocate, colombiano, etiupe e commerciaco, tutto in inglese Buste di caffè si impinano da sole come se ci fosse un fantasma Colonnine di buste con scritto colombiano o etiupe con bracciini che collegano scritta oggetto Griglia di buste tutte uguali sulla destra Poi ruota di 90 gradi e sparisce a soffietto Sinistra, una busta disegnata in bianco e nero come i progetti degli architetti Si gira in prospettiva come un cardine nella porta di un frigo Tutto si gira ancora, cioè ancora dentro, tutto girato rapidamente e a soffietto, a destra Tre buste Quella al centro ha un albero e la scritta commercio eco ed è più illuminata Gli si crea una lune bianca tipo lo spot del light che si stacca a ruota per i fatti suoi L'etichetta si ridisegna, albero si mette col centro, le scritte organizzazioni e sviluppo Mentre zooma un mappamondo multilivello girevole, contenenti sovrapposti come carte da briscola A destra sparisce una cornicetta Planisfero che ruota a cardine, si ingrandisce e a balzelloni saltano fuori scritte per ogni stato del mondo Mucchi di chicchi di caffè sparsi su una superficie bianca Una tazza di zucchero rovesciata Un mucchio di foglie che va al contrario, cioè le foglie salgono come se cadessero Ma verso l'alto e intanto va tutto fuori fuoco Una goccia di caffè cade nel bianco e si smarmella, sarà latte Grafico con la caduta del prezzo e va verso il basso Istogramma arancio ma le barre sono molli e ondigeno un po' Businessman stereotipato al cellulare in divisa aziendale E in alto una contadina col cappello a tesa larga e lo sciaglio Scritta Retribuzioni eque, sostenibilità, tutte in prospettiva Tipo come quando leggi panorama a letto e lo tieni con una mano sola per che ti stufi Zoom indietro Tizia con lo steco nei capelli Si alza dal tavolino afferrando la confezione di caffè equo Donna ben sopra il ginocchio Vestito bianco e innocenza Sede da esterni traforate ma in metallo con scheletro tubolare Tavolino scorre a destra, sulla sinistra spuntano tutti i credits con le scritte di colore e dimensioni diverse Ma ognuno sembra attaccato a una molla Rimazza un po' per conto suo, poi si ferma e si legge qualcosa Poi va fuori fuoco e zoom ancora e ci sono altri credits Fatti un po' come quelli di prima Visto? Capire è facile! Alla prossima infografica Meta 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 Met Grazie a tutti